Dopo il fermo seguito all'incidente al decollo dell'11 ottobre scorso è partita da Baikonur la prima navetta Soyuz con tre astronauti a bordo, Anne McLean della NASA, David Saint-Jacques dell'Agenzia Spaziale Canadese e Oleg Kononenko dell'Agenzia Spaziale Russa. Il velivolo è diretto alla Stazione Spaziale Internazionale dove si prevede l'aggancio al modulo russo Poisk dopo sei ore di viaggio. In seguito i tre membri dell'equipaggio dopo aver aperto il portello del modulo si uniranno ai cosmonauti già in orbita. Il lancio della Soyuz è stato assicurato per 71,9 milioni di dollari, costo raddoppiato dopo l'atterraggio di emergenza di ottobre causato dal difetto di un sensore posto fra il primo e il secondo stadio del razzo. I cosmonauti erano consapevoli del rischio insito nel loro lavoro. Credo che molti di coloro che guardano la tv non siano consapevoli del livello di pericolo. Questo è il nostro lavoro per il quale siamo preparati e per il quale pianifichiamo le azioni. Nonostante il lancio di ottobre sia fallito ed il razzo è esploso, gli astronauti a bordo non ne hanno risentito per niente.